Purtroppo molto spesso Ogni quarto d'ora volendo, se no mi sto annoiando Sì, lo guardo, quando non ho niente da fare, fisso Ogni... tre minuti Ogni venti secondi Ogni minuto Spesso Spesso, molto spesso Chi le conta le volte, un centinaio Cioè, ogni quanto non lo guardo Il problema è che non ci vedo più, quindi lo guardo ma non vedo niente Whatsapp, principalmente Instagram Ogni tanto Twitter e le mail Poche perché faccio un gran casino Whatsapp, Instagram, Facebook Tre Cinque, sei Non saprei rispondere, un miliardo Facebook, Instagram, poi non è una fichissima che si chiama Atmosfera E serve per fare i rumori, quelli rilassanti Tipo il phon Zero Troppi Cerco di farne uno al giorno E proprio quando mi gira ne metto addirittura due Pochissimi Ogni due o tre giorni, più o meno Dipende dalle amicizie che ho con me durante il giorno Un giorno sì, un giorno no, uno ogni due giorni Dipende dalla giornata Se sto facendo qualcosa di interessante O sono in un posto bello A manetta Proprio non me ne frega niente Non quotidianamente Ho detto una bugia Sono un'afflizione sociale Sono il male, sono la peste Sono una figata Per Mandy Li odio Sono delle registrazioni che fai e che poi mandi Che però io non uso mai Sono molto sintetico Sono note audio all'interno delle quali si può esprimere un concetto Non come mia madre che fa delle note vocali di 7 minuti e 20 Potrebbe dargli un titolo e mandarle a Sanremo Perché sono dei singoli Un evento straordinario È proprio una rivoluzione mondiale È infinita una cosa che non conosce mai Ci mettiamo lì, schiacciamo E parliamo, diciamo Però molte volte non si registrano E quindi dobbiamo rifarlo Certe volte me li mando da su Come si fa la m***a, così? E questa, questa è fina Ciao